allora oggi altro video questa volta abbastanza breve vi faccio sentire come si comporta il Rocksense un suono distorto ovviamente non è un MXR e non pretende di esserlo però secondo me non si comporta male questo è il suono senza effetto adesso vi faccio sentire con l'effetto il settaggio è un settaggio mediano potete vedere anche voi grazie Ora proviamo qualcosa di ancora più invasivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.